Decimo congresso di radicali italiani a Chianciano Terme, presso il Centro Congressi Excelsior, dal 29 ottobre al primo novembre. Anche quest'anno ci sono condizioni particolarmente favorevoli per partecipare. È possibile infatti soggiornare in hotel con pensione completa a partire da 30 euro al giorno. Per prenotare chiama subito il numero 0578-63-360. Tutte le informazioni le trovi anche su radicali.it. Decimo congresso di radicali italiani a Chianciano Terme, da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre.